Si è tenuta nel Palazzo Comunale di Latina la conferenza stampa di presentazione della celebrazione della giornata internazionale della pace in programma nella città Pontina il 21 settembre. Sono stati illustrati i dettagli dell'evento artistico promosso dalla Fondazione Veraldo Di Pietro e il Club Unesco di Latina con il patrocinio del Comune di Latina e che si svolgerà alle 18.45 all'interno del Parco San Marco. Sì, parlare di pace può sembrare un esercizio di retorica invece in un momento come questo è necessario accendere il riflettore su un valore universale come questo. Io credo che sia importante il ruolo dell'amministrazione ma il ruolo della società civile nell'affermare i valori della pace che sono valori che passano per il rispetto delle persone. Abbiamo disposto in questa città, in collaborazione con l'UNESCO che ha fatto caso, che qui esiste una pietra miliare dell'inclusione. Il 14 dicembre scorso è stato inaugurato il primo monumento all'inclusione attraverso lo sport. Alla cui inaugurazione quel giorno sono pervenuti il Presidente del Parlamento Europeo, Davide Sassoli e addirittura un membro della famiglia Kennedy. In quanto questo monumento all'inclusione è dedicato a Eunice Kennedy Schraves, la fondatrice di Special Olympics, vale a dire il più grande movimento che consente lo sport agli atleti con disabilità intellettiva. Il club per l'UNESCO da sempre si batte per i diritti umani e soprattutto la pace, nasce subito nel 1945, quindi quest'anno festeggia i 75 anni, proprio è una ricostruzione morale di tutti quelli che erano al di là dell'effetto post bellico nell'ambito immobiliare, ma anche proprio a livello personale delle persone, la ricostruzione delle persone. Quindi dopo un evento così devastante, quello che è stata la Seconda Guerra Mondiale, l'UNESCO, anzi l'ONU, ha deciso di creare un'agenzia chiamata UNESCO proprio per definire questo tipo di discorso, l'attivazione di un percorso che potesse condividere il sistema della pace nell'ambito del riconoscimento di quelle che sono le attività consone e collegate a tutto quello che è il riconoscimento della persona.